Quando devi fare una foto dove devi pigliare magari dei palazzi, delle cose, vai in un tragrandandolo. Sono Carlo di Xiaomi e con ovviamente abbiamo Simone, cioè Emanuele Di Mare. Ciao ragazzi, benvenuti. Ringraziamo Xiaomi per questa cosa e anche Tim che ci ospita perché finalmente è la prima volta dopo due anni che ci vediamo nel vivo, di nuovo tutti quanti. Quindi è bello tornare qui. Ci mettiamo una giacca perché fuori ci sono 1130 gradi e vediamo poi. Ci vediamo fuori. Quindi così. Esatto. Se tu tieni centrale quello la foto è bilanciata. Grazie per essere venuti intanto. Speriamo di farne altre, non solo a Milano magari.